al mare a fare il sugo ciao ragazzi a tutti sono risalita dal rifugio a 3100 sto andando su a 3.004 fino a qui pochissima nebbia c'è una bella neve bella dura poi poca gente adesso praticamente non c'è nessuno perché la nazionale sta mangiando pochi si allenano che vi devo dire ora vediamo un po su in cima si vede veramente poco vi faccio vedere un attimino qua sotto scusate se inquadro male ma non si vede un granché nulla incominciamo questa avventura faccio un paio di sciatine per vedere le piste che non conosco e vi aggiorno più tardi ciao a tutti non c'è nessuno grazie ecco no sì Grazie a tutti.